Musica Adesso entriamo nella magia con Leonardo direttamente da Firenze Leonardo, una grande esperienza in questo magico mondo dell'esoterismo Sì, io ho un'esperienza nata, non sono stata in nessuna scuola ma la porto dietro da famiglia noi siamo dei sensitivi e medium, quindi tutte cose buone, semplici però ci sono persone che vengono da me perché hanno dei risultati molto buoni non c'è stato bisogno di andare all'università, sono una sensitiva quindi chi mi vuol provare sicuramente si troverà bene con questo ho tante persone che sono felicemente contenti quindi io il mio lavoro lo proseguo, sono bene, vivo in questo mondo magico di magia che ci vuole poi da tutti per essere tutti positivi Per i nostri telespettatori dove vi possono contattare? Mi possono contattare a Firenze, in via Giuseppe Rigutini 16, Firenze Nord se vogliono andare a vedere il mio sito è www.leonarda.eu e per quanto riguarda, no, Facebook non mi interessa, diciamo così comunque se vogliono su Facebook è Racano Maria perché io mi chiamo Racano Maria Leonardo ma nome d'arte è Leonardo vi voglio vedere tutti perché ci vuole la forza, sensitività, tanta e la sensitività ti rende giovane e felice oggi è il mio compianno però non dico nemmeno l'età perché non ci potrebbero credere ho fatto un patto grazie